holo e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su minecraft allora come potete vedere dall'inventario o tra i tali in oggi tipo a parte il cane che stamattina off camera l'ho visto e lo devo avere quindi ci accompagnerà in più avevo questo colorante rosa ho detto vabbè adesso lo coloro al giorno quindi praticamente abbiamo questi due pezzi di pelle io direi comunque di lasciarceli per me non è un problema però farei comunque prima di tutto l'armatura almeno questa perché c'è ci serve troppo e questa c'è la piazza molto sacco e scusate il telefono ma io sono abbastanza deficiente perché perché mi scordo sempre di abbassarlo lo so ragazzi lo so non è normale comunque allora ci facciamo anche un po di pantaloni e poi tutte le altre cose le facciamo per per le cose belle per le armi eccetera anche perché io mi sono fatta due spade di peta quindi visto che magari ce le facciamo di ferro una ce la lasciamo perché ci può sempre essere utile e quindi ce le facciamo magari un'altra però di come si dice di petto ok spada di ferro ok e poi facciamo anche un piccone di ferro che per forza cioè per forza anche se ne ho tanti in pietra però il ferro è comunque sempre meglio ok intanto vabbè non finiamo quello lì o se poi ci serve qualcosa e vediamo qualcosa eccetera ci serve quello questo lo mettiamo qui il cane non ce lo portiamo comunque ah vi voglio farvi vedere una cosa cioè prima quando volevo iniziare il video cioè non potete capire quanti cavolo e tiranni ci sono allora facciamo così pure se potrebbe essere anche un po bruttino ma raga direi di metterci qua un blocco perché non si sa mai che potrebbe succedere qualcosa ci dobbiamo rintanare a volte fa ok praticamente io magari nel prossimo episodio io dopo questo off camera farò toglierò un po tutte ste robe perché io voglio che sia diciamo il nostro villaggio tutto nostro quindi di nessun altro eccetera non salverà niente calmo eh non ho fatto niente ok allora praticamente ho visto un commento che mi diceva prova sono molto molto bene però ve lo spiegherò diciamo prova magari nel tempo in cervego a fare appunto una un castello magari con un po trevatoio sull'acqua eccetera allora è fatto da mi sembra rubardo gamer allora io ci posso anche provarci a ci possiamo provare ma non sarà per niente facile nel senso non possiamo incerto cominciare a farlo adesso perché non abbiamo diciamo quasi niente però possiamo intanto cominciare a ad assimilare magari qualcosina come ad esempio appunto la ecco questa che mi ricordo come si chiama mi ricordo come cavolo si chiama non ricordo mai andesite ecco l'andesite magari che è una cosa bene intanto proviamo ad assimilare eccetera a prenderla l'andesite poi quando ci servirà in futuro la useremo quindi intanto raccogliamone più che possiamo ok ok oh no va qua sull'estima dovete sapere anche io comunque non so giocare a minecraft assolutamente cioè so giocare magari non so fa le costruzioni neanche tanto poi però il survival ball proprio non fa per me quindi comunque c'è un sacco di andesite qui beh meglio meglio ragazzi io magari intanto se poi le poste si fanno troppo lunghe mentre scavo eccetera ve le taglio le parti non lo so ah intanto mettiamo una torcia qui che in effetti mi stavo dimenticando poi non si c'è io un po' ci vedo perché ho la gamma al 100% ma forse voi no quindi anche questa la possiamo raccogliere buono buono l'altra bianca sinceramente non mi piace sembra più diciamo chiacchia di piccione ecco mi sembra più quello devo dire eh troppo poi i busti sono busti ditemi voi allora vi volevo anche dire ragazzi che eh praticamente sulla re delle info diciamo si possono fare eh tipo dei sondaggi e così pare praticamente io volevo provare questa cosa quindi eh praticamente in ogni episodio non solo di minecraft se praticamente me li ricordo magari vi metterò un sondaggio lì su sempre ovviamente aderente alle cose che abbiamo fatto nel video oppure sempre ehm cioè sulle cose che potremmo fare in un prossimo episodio quindi se me li ricordo sulla re delle info appunto in alto a destra metto ehm una un sondaggio se volete rispondere non ne so insomma è soltanto una prova ovviamente ditemi sotto nei commenti se l'idea può interessarvi se potrebbe essere carina non lo so poterlo sapere comunque io ho qui visto che ce n'è un sacco magari continuo a scavare ancora un pochino e poi mi fermo perché se no qui è un casino ok ragazzi ho preso un sacco di minerali come potete vedere ho preso anche un po' di carbone anzi un bel po' di carbone qui ho preso un sacco di andesite veramente incredibile e poi magari l'andiamo a trasformare qui ce n'è anche altra beh guardate sinceramente questa un attimo la toglierei perché mi sta facendo un attimo passire scusami beh ok ci facciamo trasportare un attimino ok qui ce n'è anche altra di andesite in realtà però ora la raccogliamo e poi che ne so vediamo un attimino anzi vorrei anche continuare soprattutto la nostra ricerca cioè scusate anche se magari gli altri youtuber già al secondo o terzo episodio trovano tipo non lo so già trovano già magari un diamante uno smerato che ne so e io no il fatto è che appunto ve l'ho detto prima non so giocare assolutamente e soprattutto le miniere mi fanno troppo cioè mettono un po' di ansia e quindi in realtà in miniera ci vado molto molto tristemente diciamo che non ci vuole andare però se non andiamo in miniera non possiamo di certo campare con le cose di pelle eccetera quindi abbiamo comunque andare avanti a poi è finito perché sentivo uno zombie prima cioè mi è sembrato di sentire uno zombie poi non lo so ora scaviamo magari un po' intorno e vediamo se c'è tipo un collegamento con un'altra caverna eccetera scaviamo un attimo qui scaviamo un pochino andiamo un po' anche perché c'è un'altra caverna che appunto abbiamo visto lì però non è nel senso abbiamo già trovato tutto abbiamo già scovato tutto quindi ma anche perché poi io dopo ci sono un nerd app potremmo prendere diciamo tipo un enderpelle però non so se mi conviene ragazzi poi direi no so oh un perro cioè non l'ho raccolta prima quando siamo entrati anche perché si sta facendo notte ragazzi e non so se avete visto ma non so perché ci sono troppi troppi oddio che merda è? ah lo slime vedete c'è già gente quindi come? si già esplosa la nostra casa siamo anche già morti quindi grazie mille ma non ho intenzione di rimorire una seconda volta allora ok ecco il nostro gagnelino allora mangiamo un attimino e viene di se abbiamo un'altra carne ecco qua si abbiamo delle costolette e gli ne diamo una ok allora mettiamo intanto a cuocere qui quindi il ferro ok e intanto noi diciamo trasformiamo questa roba non mi ricordo se si faceva così oppure si fa in questo modo no ok devo andare un attimo a controllare ah ecco oddio l'ho visto l'ho visto ok allora facciamo una cosa riprendiamo di nuovo tutta questa roba ok abbiamo già 36 pezzi ragazzi veramente veramente ok facciamo la stessa cosa con questa qui rossa perfetto ecco e ce ne avanzavo una ma allora intanto tutte queste cose le mettiamo nella cassa poi quando ci serviranno le riprenderemo che ne so qualcosa intanto andiamo a dormire perché se no qui l'invasione non so vorrei andare a dormire più presto possibile immaginabile però non è che si può fare parecchio allora prima di chiudere magari l'episodio qui vorrei andare un attimo a controllare non so qualcosina di qua perché è sempre utile potremmo non so continuare a scendere magari prendo un attimo la mappa e possiamo vedere anche perché ci manca veramente tanto stiamo a 50 quindi ci manca veramente un casino per andare a livello 12 dove ci potrebbe essere diamante o comunque lava oh ferro bene buono buono ferro gnammi gnam è tutto buono è tutto buono soprattutto il ferro perché di carbonio ne abbiamo veramente tantissimo però il ferro ci fa sempre è molto 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 utile sempre cioè se poi troviamo anche qualcos'altro qualche altro minerale mi fa molto molto piacere però intanto cominciamo così quindi ok qui prendo anche questo oh quanto carbone raga incredibile ok prendiamo ok ok e continuiamo anche a scavare vediamo se troviamo qualcos'altro se no magari ci fermiamo cioè torniamo a casa e ci fermiamo con questo episodio e magari continuiamo a scavare nel prossimo qui qui c'è un sacco di sta roba brutta perché mi sta finendo il piccone quindi magari finiamo il piccone e poi torniamo in superficie ok vediamo un attimo della mappa siamo a 35 ancora un bel po' atta ancora un bel po' ragazzi qui se magari diventerà diciamo la nostra cosa ufficiale piuttosto che dovremmo anche oh nooo perché per cui si fa si fa complicato ma lo dovrò sistemare io comunque mi sembra che comunque qui c'era qualcos'altro ragazzi eh mi sembra che una volta avevo visto qualcosa e poi avevo chiuso non mi ricordo ecco si appunto ok no l'ho semplicemente chiuso io vabbè torniamo un attimo in casa e magari ci fermiamo qui perché no diventa troppo lungo l'episodio quindi vi ricordo che magari se mi ricordo anch'io più che altro in alto a destra vi metto il sondaggio sull'idea quindi ciao allora torniamo la mappa perché dobbiamo fare le cose belle quindi io direi che possiamo fare un bacio con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti